ciao a tutti oggi prepareremo la frittata al forno con zucchine ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle lessate uova ricotta parmigiano grattugiato sale pepe e noce moscata diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nuova il sale il pepe e la noce moscata ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4 aggiungere la ricotta il parmigiano grattugiato ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4 versare il composto nella ciotola con le zucchine ed amalgamare con la spatola trasferire in una teglia per forno unta con olio cospargere la superficie con il parmigiano grattugiato cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 30 minuti la frittata è pronta serviamola frittata al forno con zucchine ricotta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti